Che fai? Che fai? No, 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 non fare il video che devo dare. Tira una profevole pressa, superato il volino. Tutto un po' di altro, tutto un bagno di spiato, è un po' per arrivare, è un po' di scuola, e poi prendi l'organizzazione con la branca. Un po' di altro, tutto un po' di altro. Un po' di altro, tutto un po' di altro. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Buonanotte a tutti. Buongiorno, sono circa le sei del mattino. È l'ora di andare. Buonanotte a tutti. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti